All'interno della casa del grande fratello, Jessica Morlacchi ha espresso apertamente il suo interesse per Luca Giglio. Tuttavia, il parrucchiere ha immediatamente chiarito la sua posizione, spiegando di considerare Jessica solo come un'amica. Ieri sera, l'ex cantante dei Gazzosa si trovava in giardino con Javier Martinet, e gli ha chiesto se fosse ancora in contatto con i tentatori dell'ultima edizione di Temptation Island, visto che anni fa il GFino aveva partecipato a quel reality. Poco dopo, Jessica ha rivelato di avere una cotta per uno dei nuovi tentatori, un certo, Luigi, che fa il medico. Devo chiederti una cosa, ma tu hai i contatti con i nuovi di Temptation Island? C'è un dottore, ragazzi, quanto è bello! Si chiama Luigi e fa il medico. È napoletano ed è veramente un dottore. Non potete immaginare quanto sia affascinante, si è scoperto che il tentatore che ha colpito Jessica è Luigi Scognamiglio. Sono Luigi, ho 33 anni e lavoro come medico specializzando. Amo fare sport, in particolare andare in palestra e seguire il calcio, anche se preferisco guardarlo piuttosto che praticarlo. Penso di essere una persona socievole e genuina, e molti rimangono sorpresi da me perché sono l'opposto di ciò che appare a prima vista. Dove mi vedo tra dieci anni? Continua Luigi, spero di continuare il mio percorso da medico, perché è una professione che mi appassiona e ho molti progetti legati a essa. Ultimamente sto cercando di adottare una frase che dice, lasciare andare è la miglior scelta per mantenere la serenità e progredire. Sto cercando di farla mia e applicarla nella vita quotidiana, ha detto Luigi durante un'intervista con Witty TV.